Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Hub vaccinale di Sciacca, oggi è un'altra giornata di grande attività. E tra coloro i quali vengono sottoposti alla vaccinazione, anche molti che fanno la terza dose. Tra questi c'è Paolo Gulotta, che è un paziente fragile. Con quale stato d'animo sta facendo ad oggi questa vaccinazione, questa terza dose? Con serenità, sicuramente, anche perché la terza dose serve a completare il ciclo. Per noi è molto importante. Devo dire che anche nelle due precedenti vaccinazioni non ho riscontrato alcun problema e tutto procede bene. Qual è il suo appello a chi ancora manifesta perplessità già per la prima dose? L'appello, sicuramente, come si vede dai media, che stanno calando le dosi vaccinatevi. Insomma, questo rischio... Ho avuto anche dei confronti con dei pazienti, lavorando in un ufficio pubblico, con dei pazienti che sono contrari al vaccino. Io non ho perplessità. Il mio consiglio è quello di vaccinarsi, anche perché... per la sicurezza di tutti. Ecco, lei opera nella pubblica amministrazione, ne ha fatto riferimento. Al momento, lei sa che c'è in corso un intenso dibattito e c'è chi contesta anche il Green Pass. A questo proposito, qual è il suo pensiero? Ma il mio pensiero è sempre positivo, nel senso che io mi adatto a quelle che sono le disposizioni, mi adatto sempre a quello che conviene fare. Il Green Pass è una cosa positiva che dimostra a tutti che un soggetto è vaccinato e che non si vuole vaccinare è una scelta di vita. Io non so cosa... come poterle giudicare, dico, queste persone. Dottore Settecasi, l'attività, in particolare la Sciacca, procede bene. Ricordiamo che con l'87% dei vaccinati è una delle percentuali in provincia più alte. Però c'è ancora un tanto lavoro da fare. Sì, sono soddisfatto, siamo soddisfatti per quello che siamo riusciti a fare, caro dottore Pantano, fino a questo momento. Soddisfatti ma non completamente, perché vorremmo raggiungere quella sacca di resistenza che per le motivazioni più varie è più o meno condivisibili, secondo me non condivisibili, ma vorrei evitare processi sommari ed evitare giudizi che non spetta a me esprimere. È chiaro che per il lavoro che svolgo mi trovo sul fronte completamente opposto, perché da sempre, e a volte anche anticipando un po' i tempi, mi sono battuto per la vaccinazione di massa. Adesso siamo alla terza dose. Siamo alla terza dose e questo però non esclude il fatto che, nonostante il trend della curva sta calando in questo momento, e questo lo dobbiamo sicuramente al grande numero di vaccinati, non esclude il fatto, dicevo, che bisogna insistere, bisogna battere il chiodo veramente, bisogna battere il ferro mentre è caldo, perché è questo il momento per potersi ancora proteggere. Bene, approfittiamo di questo trend negativo, negativo nel senso di discesa di curva, nel senso di calo dei contagi. È il momento giusto per approfittarne, per evitare che l'arrivo della brutta stagione, della stagione invernale, ci riservi sorprese che non vogliamo avere. E per questo è inutile ribadire, è superfluo ribadire, che al momento attuale, l'unica arma, non sappiamo cosa ci riserva il futuro. Sento tante cose, siccome non sono né un mago né un alchimista, io so che al momento l'unica arma che abbiamo in mano è il vaccino, ed invito tutti ad utilizzare almeno questa che abbiamo. Poi cosa verrà in futuro? Non sta a me dirlo, non sta a me attendere con fiducia, ma comunque il nostro impegno per ora è rivolto soltanto alla campagna vaccinale. Dottoressa Plano, lei è un giovane medico, è più difficile convincere i giovani in questo momento alla vaccinazione o la gente di età più avanzata? Diciamo che c'è una classe reticente che sia di soggetti giovani, sia di soggetti un po' più adulti. Gli anziani sono quelli più motivati perché da quando sono stati vaccinati con prima e seconda dose possono vivere più tranquillamente la serenità di un pranzo o una cena con i loro cari, quindi sono tornati entusiasti per la terza dose. Ci sono giovani che ancora non ci credono, ci sono adulti che ancora non ci credono. Quello che dico io è sempre di venire qui a parlarne con noi perché anche questo fa parte del nostro lavoro, che è informare e contrastare la disinformazione che purtroppo è tanta.